Nell'ambito dei provvedimenti per l'anno 2018-2019 volti al risanamento della qualità dell'aria, domani a Frosinone si terrà l'ultima domenica ecologica dalle ore 8 alle ore 18. Sulle strade, secondo le indicazioni dell'assessorato all'ambiente coordinato da Massimiliano Tagliaferri, la circolazione non è assoggettata a restrizione ed è comunque consentito l'accesso di tutti i tipi di veicoli per raggiungere la più vicina area destinata al parcheggio, di cui sarà quindi possibile recarsi presso le varie zone del centro urbano mediante il servizio di trasporto pubblico. Come piazza Salvo d'Acquisto, piazza Falcone e Borsellino, piazza Martiri e delle Foibe. Domani sarà in vigore dunque il divieto di circolazione dell'area urbana circoscritta per tutti i veicoli ad uso privato e sulla fascia urbana di Via dei Volsci, dei veicoli con massa complessiva a pieno carico superiori a 3,5 tonnellate. Saranno esentati dai divieti veicoli adibiti a pubblici esercizi a servizio di persone invalide e quelli comunque autorizzati per esigenze speciali, oltre che i veicoli elettrici e a propulsione ibrida.